E' stata la discoteca Cuore Matto di Poviglio ad ospitare la prima selezione provinciale del concorso Miss Intimo, manifestazione organizzata dall'agenzia Milano Modest 2 diretta da Paolo Zaccaria. Ancora una volta il locale gestito da Gigi Colombi non ha deluso le aspettative di quanti seguono la sua programmazione, offrendo al pubblico una sfilata all'insegna della bellezza e del clamor. Prima di iniziare la passerella, le ragazze che hanno partecipato alla selezione si sono concesse ai fotografi. Poi nelle privè del locale davanti alla giuria è iniziata la sfilata vera e propria presentata da Terry Flower Tedeschi. Sorrette dall'ammirazione dei presenti, le concorrenti hanno affrontato con spirito e disinvoltura questo momento tanto atteso, dimostrando tutta la loro prorompente bellezza e la loro simpatia. Grazie a tutti. Al termine della sfilata un secondo shooting fotografico. Grazie a tutti. 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 al secondo posto ex equo si sono classificate denny battini e marilena pannulla la fascia della terza classificata è andata invece a gabriella mango ma sentiamo le vincitrici al microfono di terry flower bellissima serata questa sera come sono state le tue emozioni beh sicuramente emozioni bellissime perché è fantastica questa sera a dimostrare quello che si vuole fare vogliamo dire ai telespettatori quanti è la tua età anche ho 22 anni e vieni da vengo da fidenza a parma le tue ispirazioni ma a me questo mondo piace tantissimo quindi spero di continuare in questo settore e dio sbagliando di farcela abbiamo il piacere di essere qua con danni battinne buonasera danni buonasera come sono state le emozioni fresche di stasera raccontaci bene per primo devo dire che un locale è strepitoso un'esperienza davvero meravigliosa mi è piaciuto tantissimo e spero di ritornarsi ancora la tua età vogliamo dirla 20 e provieni da sono di origine moldava e abito a piacenza vorrei continuare in questo modo entrare nel modo della moda e chissà magari un giorno a firmarmi diciamo e chissà magari anche attrice non si sa siamo qua invece con marilena pannullo e quanti anni hai marilena vogliamo dirla telespettatori 21 anni e diciamo una bellissima sfilata questa sera tu come sempre nelle sfilate ho avuto modo di apprezzarti in altre hai dato il meglio quindi diciamo questa manifestazione sull'intimo e la tua ispirazione è quella di fare dei passaggi diciamo con delle case di moda e di intimo beh sì quello sicuramente ne ho tante di aspirazioni comunque si ci prova sempre e si spera sempre per il meglio con grande emozione di essere qua questa sera in questa sera autunnale inizio autunno al cuore matto e tantissima gente la gente che comunque ha apprezzato questa bellezza questa freschezza delle ragazze e con molto piacere che vi presento gabriella mangu un nome difficilissimo però viene viene da cremona vero sì vengo da casal maggiore provincia di cremona da tanto che tu sfili da molto no vogliamo dire la tua età se si può dire telespettatori certo 28 anni nella famiglia e qualcuno che ti segue qualcuno che ti ha portato a condurre comunque questa strada sì mio marito per questo ringrazio tanto perché ecco questa è una cosa importantissima da dire telespettatori perché a volte anche i fidanzati i mariti comunque aiutano a seguire questa carriera apprezzano la bellezza che hanno in casa e 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